Welcome to Hell Poi dopo ce ne andavamo un po' in miniera E quindi, ok Ci abbiamo tutto? Per andare, diciamo, in giro Andiamo a prendere un paio anche di Pokéball, dai Ok, dai No, io le devo fare proprio le Pokéball, cazzo Eh, vieni qua, vieni qua Sì, sì, aspetta Ah, però devo prendere il ferro Aspetta, vado a prendere il ferro Tu dai io Ah, ce l'hai? Ah, beh, prendo pure il mio che me lo so conservato apposta, scusa Se no scrocco troppo Ti facciamo anche le mie scarpette, va Ma sì, qui ci siamo Ok, chiudo la porta Eh, il ferro dove ce l'ho? Di sopra ce l'ho, dobbiamo vedere Eh, sei diventato un fantasma Cosa? No, ti ho visto passare attraverso la porta Non ho visto aprirla Allora sarà la ganda di nuovo, cazzo Ok, tutti i semi Pianta tutti i semi che puoi Ah, ah Ok, hai preso pure tu? Eh sì Allora Avevi lasciato tutto su? Il ferro Soul Mi sei camminato qua No, era già così Ah sì Vabbè, allora comunque guarda dentro In una delle ceste C'ho la zappa Se per favore me la giusta Ok Allora, il ferro, il ferro Dove cazzo c'ho? Gigi? Soul Mi hai messo tu l'obsidiana No Non giro manco il piccolo di diamanti Un amo No, non ti amo No, no C'ho anche dei pesci Scusami E' appassato Sanpei Probabilmente Ma perché mi sta laggando così? Mannaggia tutto Sanpei Il ferro Il ferro Dove cazzo è il ferro? Ma l'hai preso tu il ferro? Ma chi è? C'ho 15 ferro Ok, però non c'ho il ferro No, io ne teniamo 40 No, forse ne teniamo 30 Almeno 30 Sul Sul, l'hanno trovato le nostre case Eh, è possibile Mi manco il tempo di farle Sul No, ma aspetta Allora, quindi mi è scomparso qualcosa fuori a me Perfoggio Sul, ci hanno derubati Porca troia Ok, fa nulla Il mio ferro Le pietre evolutive dove sono? Ah, ok Cos'è che c'era qua? Però mi hanno Allora, non capisco Mi sono venuto a derubare Però mi hanno lasciato l'obsidiana Diamantismo Che ovviamente non mi servirà assolutamente Una beata minchia Però Io mi ero Io avevo fatto Allora Avevo fatto la casetta apposta qua In questo buco di culo del mondo Con Coperta da questo Ammasso di terra Per cercare di non farla scoprire E cosa è successo? Ce l'ho derubato Tutto a posto Vabbè dai Ci puoi fare Il green tank E l'orange tank Vabbè Allora io direi Di posare qua dentro il cibo Vabbè Intanto mi riprendo anche questo Che è cresciuto Ok Ce la faremo mai adesso Andare a minare Allora Qua dentro poso Questo Poi poso Questo Poi poso Basta Ok Ma tu ce l'hai il ferro allora? Sì sì Dobbiamo fare anche un campo di gcockro Che ci penso Non so Ci dobbiamo fare il grano Non so come Il grano Sì C'hai uno di cioccolata Sì sì Vieni un attimo Nella crafting table Se me la passi Where are you? Aspetta che Aspetta che No vabbè me lo prendo io Non ce l'ho qua Allora Pensavo che è di vicino Ce l'ho qua Ok E uno così Ah ce l'hai già a casa Sì sì ce l'ho Ce l'avevo 30 Ma Romero male che i soldi ce l'avevo addosso Maledetti Manage Maledetti Vabbè Avevamo poco Nelle ceste E cazzo però Mi hanno fottuto il Come si chiama? Ferro Mannaggia tutto il ferro Mannaggia tutto quanto Pure il carbone C'avevo Sangue di Uuuuh Uè Non si dici Aspetta Mi l'ho bloccato Questo lo posso piazzare in acqua Ok Ma io non c'ho neanche più carbone No ma tristezza Perfetto Tutto a posto Dobbiamo andare a minare per forza Perché non ci abbiamo più niente Vabbè tagliamo qua gli alberi E facciamo carbone alle vie Mannaggia tutto quanto Guarda Non è possibile Che cosa posso lasciare qua? Dentro la piuma Questo Il cartello Che non mi serve un cazzo Ok C'ho pure delle cose Delle ultrabolle Ah sì Ok Intanto mi scrivo su TS Do stai? Eccoti qua Vengono da te perché Mi hanno sfidato Guarda che Guarda che taro No sono andato Per uno di Merda Cubone scappa Cubone Cubone scappa Ok ce l'ho fatta Come Cubone? C'hai Cubone tu? Sì Io ce l'ho Che c'ho Cubone Oh ricordavo Usufruisco un attimo di questo Tan tan Da 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 Non c'è la musica La la faccio io Sta a posto Ok Ok No Non mi dai questo Non mi serve Non lo so Ecco non serve Allora Che dovevamo fare C'hai quindi le basi in ferro? Sì sì Puttegna Porca puttana È tutto qua Boom Sul pochino Sì la dovevo cliccare Ma meno male che non ti hanno fottuto Ok era un disc Ne prendo un pochino E mi metto a cattarlo E faccio Io faccio due ultra ball Io faccio un'altra cosa Perché non me lo fa Anvil Ah perché ho l'ultra ball disc Lo devo Sono proprio un pesce Ok scusami Che lo devo fare qua vero? Ok Mi dai il martello Il martello Il martello Il martello Il martello Il martello Brava Gentilissimo Ok col destro Non col destro Sul sinistro Ovviamente Ok sto Fa la Ultra Minch Si sta curvando Oppa lo devo rifare Io un'altra volta Si sta curvando Si sta curvando Ma che io l'altra notte Era così stupido Non capire Ok Fatto Ok Ne faccio due Ne faccio due per ora Perché tanto questi mi servono Ecco Mi scrivono anche Per messaggio Tutto a posto No no ma mi devo fare pure questo Vero Mannaggia tutto quanto Mannaggia Mannaggia a me Che ci metta tre quarti di ore Per fare queste cose elementari Mannaggia tutto Eh lestone Ho sbagliato di nuovo Eh lestone Che cosa? Lestone Per il pulsantino al centro Ne ho due Ah ok Come Io per ora mi faccio due ultra ball Ce l'hai un'altra invil? Sì sì Ok Solo ti sei fregato una base mia Aspetta Lascio tutto quanto qua dentro E vado a A fare il boscaiole Ok Potrei avere una base Chiedo scusa Eh già dentro No 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 Me la devi dare No per sbaglio Te l'ho buttato addosso io Tranquillo Tranquillo Oh no Me la dai cinque C'hai dei pulsantini? Eh no Infatti devo andare a prendere la ston Anche per questo Dovrei che prendere la ston però Allora questa ce la mettiamo Diciamo qui A posto dello zainetto Ok C'è un altro spazio Per fare altre ultra ball Mannaggia Aspetta che io ce l'ho a casa La ston Una ender pearl Ci possa dire? Eh Presa Sta cobblestone qua sull'albero Poi me la spiegano C'è della cobblestone sull'albero? Sì sì Ma chi è passato per qui? Allora La ston Ce la dovrei avere Qualcosa sta morendo Ah beh Sei tu? Stavo No no Ah ok Tutto a posto Ok c'ho quanto di cobblestone Che potrei fare qui? Allora Come si fa il Il pulsantino? Uno di stone Ah stone Non cobblestone No no Quindi la devo cuocere Mannaggia troia E come cazzo la cuoce Che non c'è niente? Eh infatti sto andando A fare un po' di Eh infatti ho messo la legna La legna grezza Oddio oddio Allora intanto Vediamo se c'è qualcosa Alto da raccogliere Perfetto Nient'altro Raccogliamo un po' di Di legna Eh Ok Gigi c'ho un intruso in casa Chi c'hai in casa? Un'intruso E chi sarebbe questo intruso? Ebbene Eh sono un attimo impegnato Eh un bambino Un bambino Come un bambino? Un bambino Ripeto Come un bambino? Eh un bambino con i braccioli Ah l'allenatore Sì sì L'allenatore vuoi Ok c'ho 4 di stone Questa me la riesco a conservare I biscotti Ok Posso fare altre 4 ultra ball No le faccio Ce la faccio a fare Ah è chiaro No Forse uno Fili con zale se ho passato Allora Eh su 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 Oh no sono dischi Puttana Eva Devo venire a farle da te Allora ma c'è una cosa No no ma non sta laggando Tranquillo No 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 non sta laggando No 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 Non sta infatti no Poi lo vedete nel mio video Buonasera signora Buonasera Buonasera Scusate posso usare la in ville Allora Ok Questa la piazziamo Qua Ok Dopo torno a casa Tua sopra Ma che si sfuta così male Eh me lo sto chiedendo Anch'io Allora c'hai Per caso un'altra cosa Di sopra Della Ultra Minch'io Dopo facciamo Come una farm di gcock Cosa facciamo dopo La farm di gcock Cosa hai detto su mia madre Che cosa Ah si la farm di gcock La devo fare Cos'è che si è aperto Ah l'hai aperto tu Allora c'è ne ho quattro Di basi Perfetto Dove c'è E una pokeball Ok Ultima volta Devo fare questa Ok Allora Bosca Yolotime Bosca Yolotime Bosca Yolotime No Com'era Quella di Adventure Time Adventure Time No non lo so Sinceramente Non lo so Perché non avevo mai visto Adventure Time Ma neanche io Però Ho sentito parecchie volte La secret Non ho mai visto Adventure Time Dici scritto Fin mai Ok Ok allora Diciamo che metto Metto anche queste cose Qui dentro Il martello I tre pesci Ce li possiamo cuocere Che dici Eh Sempre cibo Uno due tre Ma lo dice uno Ha fame boia Boia Mangio Mannaggia tutto Mangio Guarda qui Che personaggio Che personaggio Io nella realtà Tengo fame Cazzo Oddio Sbondaser Signora Prego Entri pure Buona salve E che se l'ha E che se l'ha da su di dimori Signora Ok Sto cuocendo Quale pesce Eh E vabbè Un altro sta qua Ok l'ultimo E poi andiamo Dai Ci andiamo a allenare I nostri pokemon Che abbiamo bisogno Cioè abbiamo perso Tipo tre quarti Che dura No solo uno No solo uno Ah solo uno Ok Allora Andiamo ad allenarci I nostri pokemon Goddakachemowl Andiamo Sto facendo col tagliare Tagliare Sti cazzo Andiamo a catturare A catturare A allenare Dai andiamo Dai 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 C'ho voglia Dai Un hunter Che livello sei? Che livello sei? 33 Ci provo? No non sono un hunter Sono un cacciatore Ci provo? Aspè me l'avevo scritto Nei commenti Come si fa a cambiare A switchare Una barca? Oh mio dio Sono arrivati dal mare Oh mio dio Allora Solo ricordatela questa Perché noi poi Andremo a vedere Chi cazzo è stato Non con la barca Ovviamente Che moriremmo Conosceremo un pokemon Volante Dov'è? Sol Sol Dov'è? Io ti amavo Dai vieni qua Andiamo Andiamo a allenare i pokemon Dai Ok ricordiamocelo Cazzo Sono arrivati dal mare Dal cazzo del mare Allora io c'ho Cube a livello 21 Questo raticate è 27 Quindi è un posto Rattata 15 Posso spoilerare Una costruzione Che mi è venuta Adesso in mente? Ehm Spoilerare? Nel senso dirla Ma si Perché no? Scusami Per tipo porto Un porto? Infatti si Bella idea Bellissima idea Io pure c'ho un'idea Per un'altra costruzione Però la farò La farò vedere Fight Ok Tanto io ho a me PG8 Fa schifo ragazzi È seduto di livello Choose a pokemon To set out Ah no È morto a cube È morto Ma come è morto a cube Vabbè vai Charmander Ah ma è cube Ma PG8 Come hai recuperato Tutta la vita Scusami Ma questa è una bella domanda Porca troia Mi sta spaccando Tutti i pokemon Charmander Fai qualcosa Perché c'è ancora Charmander Come perché c'è ancora Charmander Perché io ho preso Charmander Sì Ma perché c'è ancora Quintici Stai zitto Il 23 c'è PG8 Fa malissimo Tanto PG8 lo sto menando Vieni guarda Guarda come lo sto menando A PG8 Ecco è morto Morto Charmander Vai Graveler Graveler non può perdere Rock Rock Blast fa male Sì dovrebbe Non lo conosco Minchia Ok l'ho shottato Dovrebbe essere Caduta massima Eh vaffanculo Ma devo andare a curare Il mio pokemon Ciao abbra Abbra Scompasso abbra Oh mio dio Ci sta Wartortle E' cubo Ho capito che cubo Non è Come faccio a cambiare pokemon Eeeh Dovrebbe essere Con Aspetta che Ok ok Per il punto di domanda Teoricamente Comunque con i tasti là Ok l'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto Si sta evolvendo Ok ok Fight Oh so già che il nome Da gli scoliped Vai 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 Eeeh Wartortle mi ha shottato Non ce la posso fare guarda E' tanto a livello 12 Quindi mi ammazza Ma non gli faccio un cazzo Ma se gli butto l'ultra ball Può essere che lo catturo Se gli butto Direttamente l'ultra ball Adosso Ce la posso fare Si Ok allora butto Numel E scappo Mio dio che figura di merda Ecco no Numel scappa Numel scappa Ok Pugiscio Ok ok Aspetta 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 Forse ce l'ho fatta Dai ti prego Ti prego Ti prego Perché così lento Oddio No Ahia Cazzo di merda Cipro Ti prego Ti giri un attimo No Possiamo le pokeball Che cerco di catturare Però io Perché scusami Cosa dovrebbe cambiare Ce l'ho buttato un'altra Perché con la pokeball Scusami Cos'è questo Scuola pasta Ma è tuo Si si No dai ma lo voglio io Però Si te lo catturo Poi te lo scanto Ah ok Thank you Mi catturo il grano Eh vabbè dai Cazzo io lo ho in tolto Come hai shottato tutto Ti ha shottato Eh ma porca troia Ragazzi io volevo Vartorfer Ho sprecato Ho sprecato due Ultraball Come cazzo è possibile No io ho tolto nulla Come Ma devo curarmi i miei pokemon Ok Ando al pane Lo metto qui Ok vado un attimo a curarmi qua E poi andiamo Sì ad allenare i nostri pokemon Ma certo Ah ce l'hai invil qui Ma me l'hai messa tu Sì si Ah grazie Ma me la volevo comprare Ok 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 Tutututututun Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta! Ok non meglio Quasi mi faccio qualche altra Ah non c'ho il le stone Vabbè fa niente Andiamo Andiamo Allora Sto cercando di non shottarlo Ah guarda se l'hai presa con quarta Ti ha spaccato un pokemon vero? Leggi il nome di sto pokemon Come si chiama? Scola pasta Ma perché? E si chiama scoli pad E come hai fatto a chiamarlo così? Eh molto la scuola Ultrabo Dove l'ha tirata la ultrabolla? Cos'è sto pokemon? Ah Ehi ma col tempo Graffi Mamma Rock blast ancora Ecco lo shottato Mamma Quello che non volevo Mannaggia Vai Ultimo attacco Tanto che questo pokemon non lo voglio No Ancora rock blast Scusi Eh vai E' sedito di livello Sto cercando Smackdown Sto cercando di Eh vedi quanto danno fa Eh sta scritto sopra Power 50 Accuracy 100 Eh guarda le altre mosse Togli quella che non fa danno Eh mood sport tipo Yes Ok perfetto Che livello è salito? 27 eh Di un livellino Ma come faccio a succiare proprio il pokemon? No Vabbè faccio direttamente così Eh Cubone che è 21 Vorrei portarlo un po' più avanti Ci sono degli Abra Allora sommario Blocco a livello Si Mannaggia Si Bounce club Abra è scomparso Quanto ferro Questa è giustizia C'è un cadabra a livello 23 Che io provo a sfidare Che cazzo me ne putto Bounce club Boom Che botte ci ha tirato Bounce club Ecco Io odio Abra cadabra È alla cacazzo qua No li odio È che cazzo È alla cacazzo Eh ma si Perché scompaiono Se ne vanno Porca troia Eh non si riesce a fare niente Ma io non lo so Cos'è È una pocheria Poi devo Devo picchiarmi Con i Rattata E con i PJ Che livello sei? Vieni qua Eh vieni Mannaggia Mannaggia a te Oh perché ho sfidato Magnemite Cavolo Madonna Ho quasi shottato Mimino Io ho fatto Un lefice Riesco a ucciderlo Ah Ah è salito di livello 22 Perfetto Salito di livello 22 Sta per morire però 25 su 58 Mi sa che sta per morire Quindi devo Devo venirlo un attimo a curare Ehm Qui ci sono dei Abra Sta zitto Sta zitto Che livello Che livello è? 6 Dimentica proprio Che lo cattura Il livello 6 Voglio vedere se Scoliped Scolapasta Prende livelli adesso Dan dan Da 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 No più che altro Perché io ho bloccato Il livello Io ho bloccato Io ho bloccato La crescita Eh veramente Kingler Ci sta Ora non può salire Al 31 Teoricamente Come hai fatto a bloccare Il livello E c'è Il testino Ah solo Dietro casa tua C'è una marea Di Kingler Madonna mia È una farm Di Kingler Sto a posto Dai Tutto a posto Dove sei? È vero Magnumet Non mi può far danno Perché c'è mosse Solo di tipo Normale Di tipo Elettro Spettro Terra Con il mone Sia le mosse Normale Che le mosse Di tipo Elettro Mi ha spiato Mi ha spiato Uno swinehub A livello 28 E io non ho paura Minchia Metà vita M'ha levato Porca troia Non ho paura Boh Morto Porca troia Dai Cubone Ultimo Dai Cubone Dai Cubone Ci vediamo In te Sbagliato Dai Cubone Aia Non mori Sì Cubone Sarà Rage Cos'è Rabbe Sarebbe Sì Ira Levo l'irra Perché tanto Non faceva niente Cosa Ah 3 dollari Mi ha dato Tutto a posto Cos'è wind beats Bucko Siamo Arbe Il 探 In De